Panico questa mattina in via Castromediano al quartiere San Pasquale di Bari. Un uomo ultra settantenne che vive al primo piano di un palazzo all'angolo con via Redavid ha avuto un malore mentre era solo in casa e la stufa elettrica prendeva fuoco. L'immediato intervento dei vigili del fuoco allertati da alcuni vicini per via del fumo che usciva dall'abitazione ha scongiurato il peggio. La vittima intrappolata in casa è stata soccorsa da un equipaggio del 118. L'uomo era riverso per terra nella cucina dell'abitazione. L'anziano è stato trasportato in ospedale intossicato e lievemente ustionato al viso.